Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Carlo, andiamo a suonarci questa bellissima canzone ormai storica dei The Clash, Should I stay or should I go? Davvero carina e come al solito a me piace molto prendere le canzoni originali e andare a fare tecnica sul basso, quindi quale migliore occasione se non un brano che poi possiamo mettere in pratica suonandolo con gli amici, però nel frattempo noi lo studiamo facendo tecnica, che è più divertente che suonare soltanto degli esercizi, secondo me. Allora, andiamo a sentire. Innanzitutto sentiamo il suono del basso, è molto distorto. Andiamo a prendere. Te lo faccio sentire, infatti io ho messo un distorsore. Si sente questo suono, adesso è strappolato con Moises, non rende bene, bisogna sentirlo con l'originale, con tutto. Però si sente che è molto graffiante e quindi ci ho messo anch'io un distorsore sul mio bel precision, preservando però e tenendo come se fossero due canali, canale pulito e distorto messi insieme, per non perdere la ciccia appunto del suono del basso originale sotto. Allora, quindi il basso io qua l'ho tolto. Quello che hai sentito nell'introduzione era il ritornello, che è la parte un pochettino più veloce. Andiamo a vedere prima quella, poi vediamo invece il riff, quello mitico della strofa che è fatta insieme alla chitarra. Allora, gli accordi sono sempre Re, tasto 5 corda di La, Sol, tasto 3 corda di Mi e La, tasto 5 della corda di Mi. Quindi ci appoggiamo sempre a questi tre accordi. Però è importante come ci andiamo con le dita a prenderli questi accordi. Quindi nel primo, è un Re maggiore, io devo andare nel primo giro con il dito medio, col 2, e poi prendere Fa diesis, Sol, Sol diesis e La. Quindi in pratica vado a suonare la triade di Re maggiore, Fa diesis e La, ma mettendo anche le note cromatiche che mi accompagnano dalla terza, che è il Fa diesis, fino alla quinta che è La. Il ritmo, lui nell'originale forse fa degli ottavi. Li tiene così. A me piace più metterci invece il sedicesimo ritmato un pochettino più con gli altri strumenti. Ta 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 ta. Ottavi. Nel secondo giro di Re, vado anziché a fare il passaggio cromatico, Re, Do, La, Sol. Quindi vado a prendere il Re appunto, l'ottava, al tasto 7, 7, 5, poi cambio corda, corda di Re, 7, 5. Quindi vado ad alternare una volta il cromatico e una volta il salto con l'ottava. Uno. Secondo. Questo qua poi viene girato uguale nel Sol e quasi uguale nel La. Quindi una volta che ti sei fatto una ditteggiatura, poi la porterai sugli altri accordi. Il difficile però, cioè il difficile, il bello è andarsi a creare una ditteggiatura, mentre nel primo giro è abbastanza obbligato, perché poi abbiamo il Fa diesis qua. Uno, due, tre, quattro. Nel secondo giro, dove abbiamo l'ottava, se noi teniamo il medio sul Re, sicuramente scolasticamente è più giusto, perché ci porta a fare mignolo, medio, mignolo, medio. Quindi la mano sta ferma, quattro dita, quattro tasti. Però è un po' più scomodo. Quindi io, ad esempio, faccio questo escamotage, mentre parto così. Qua scendo col 1 e poi ritorno col 2 Indice Qua poi avrò la scelta se fare mignolo, indice oppure fare, scolasticamente è più giusto, però un po' più faticoso, annulare indice Per poi, attenzione, ritornare per un po' più medio, sul Re, se, nel giro, di nuovo quello cromatico. Ok, andiamo a provare a suonarcelo, vediamo se riesco a prendere dove? Un po' più avanti. Hai notato quindi questo cambio di ditteggiatura? Allora, quando vado in Sol, vado a fare la stessa cosa. E quindi vado, una volta studiata una ditteggiatura, poi la porto anche qua. Proviamola anche insieme, dovrebbe partire adesso. Ecco, potremmo prenderlo come esempio, ad esempio per rallentarlo un po', quindi originale 112, mettiamolo 106, un pochettino più lento, ci dà un po' una mano a ditteggiarlo, anche meglio. Quindi noi partiamo con il Re, ti dico anche gli accordi. Re Ancora Re Sol Re La Ok, ti ho fatto già vedere anche una parte di là, quindi dicevo, scusa riguardo a quello di prima, se hai in Moises puoi caricarti la canzone, te la rallenti un pochettino, fino a quando sei comodo a suonarla, e poi piano piano la porti su. Altra cosa molto interessante da fare in fase di studio. Allora, nel là, anziché fare il passaggio cromatico, Vado a fare direttamente l'ottava, questo perché? Perché il La dura di meno degli altri accordi. Perché qua c'è lo stop, insieme alla voce, insieme agli altri strumenti. Quindi vado a prendere solo il secondo, però la ditteggiatura posso tenere lo stesso, quindi parto con l'indice. Andrò a prendere La, Sol, E, 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 Poi ritorno con La. Poi c'è lo stacchetto per tornare sul riff iniziale, che va a prendere Andiamo a sentirlo Che è questo Dopo andiamo a prendere il giro, quello iniziale Che non ti ho ancora fatto sentire Però è molto bello ed è quello un po' iconico di questa canzone Perché viene fatto all'unisono con la chitarra Subascula E ritorna ancora sul R Sarà poi lo stesso giro della solo che viene dopo Allora cosa vado a fare? L'accordo iniziale è mezzo re e mezzo sol Nel re vado solo a fare il ritmo Che è questo Poi si sposta sul sol Doveva mettere il si E poi come passaggio diatonico per tornare all'accordo di re E la nota do Quindi anche qua è fondamentale la posizione Partiamo con il dito 4 Perché dopo, subito dopo abbiamo l'uno per il sol Scusami il due per il sol Quindi vado a fare il re al tasto 5 Il sol con il dito 2 al tasto 3 Dito 1 si naturale Dito 2 re E dito 4 Dito 4 do, scusa Dito 4 re Quindi anche questa può essere molto didattica come cosa Perché esercito la mano a stare larga Certo, per la velocità che ha il brano Io potrei farlo anche con un solo dito E anche per così Quindi non è particolarmente veloce Però se riesco a usare questi brani qua Anche per fare tecnica Meno spostiamo la mano di solito E meno c'è rischio d'errore Quindi più riusciamo a star con questa ditteggiatura E secondo me alla fine meglio è Quando vado a spostarmi in sol Ho fatto un casino Quando vado a spostarmi in sol Mi appoggio sulla nota fa Stessa cosa simile sul la Lui forse tiene proprio tutti ottavi A me piace più farlo con l'appoggio del sol Che ci sta bene Non so sicuro se nella parte lo metta Però ad orecchio così mi suona bene Per il resto siamo tutto su questi due giri Come ti dicevo prima Come ti dicevo prima Sull'assolino Tiene il giro della strofa E poi fa un doppio ritornello Per andare nel finale Attenzione poi nel doppio ritornello Che Sull'A non si ferma più per lo stacco Ma attacca direttamente con il giro dopo Bene Spero di averti detto tutto In questi pochi minuti E noi ci vediamo poi al prossimo video Grazie per averlo visto fino alla fine Ciao a presto Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video